La vera attualità che in questi tempi si sta giocando la CISL è il tema della partecipazione e della raccolta delle film sulle partecipazioni. Dopo la presenza delle pianze c'è Stada, che è stata la CISL, ci ha permesso di raccogliere tante firme, di fare un passo in più, di essere noi, andare a cercare le firme dalle persone del nostro pubblico che è con le banchette. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.